Maria Alba Leone, comandante della Polizia Municipale di Bacoli, un giorno importante per portare la testimonianza di una donna che è al comando della Polizia di Bacoli. Salve, buongiorno a tutti. L'evento merita attenzione perché assistiamo ormai sgomenti ai tanti episodi che ci vengono narrati dalla cronaca su atti di violenza inaudita nei confronti delle donne. Quindi ho ritenuto importante rappresentare in qualità di donna e capo della Polizia Locale di Bacoli, essere qui presente a testimoniare la mia vicinanza e solidarietà a tutte le donne e la presenza istituzionale a tutela delle donne e quindi presenza della Polizia Locale in questa veste, in questa funzione. E' una domanda simpatica. La divisa ovvero l'uniforme, uniforma. Quindi onestamente io non mi sono mai soffermata sul mio essere donna a capo di uomini. Piuttosto utilizzo la mia femminilità per una maggiore sensibilità rispetto a determinati approcci con gli uomini. Quindi in quanto donna forse mi sento mamma, sorella, vicina con tutte le mie caratteristiche femminili alla direzione di un corpo che poi mi coccola, quindi in qualche modo mi gestisce così. Però ecco la femminilità all'interno della Polizia Municipale, la presenza delle donne all'interno della Polizia Municipale, certamente questo è uno di quei temi che vanno affrontati. Perché se guardiamo le statistiche italiane, anche se non recenti, perché mi riferisco particolarmente ad uno studio condotto dall'Associazione Caracciolo del 2011, la presenza delle donne in Polizia Locale è ancora estremamente bassa. E soprattutto estremamente bassa la percentuale di donne che occupano posizioni di comando e di rilievo soltanto nella regione Campania. Per esempio ci sono 21 comandanti donna che non sono poche ma non sono neanche tante.